Il passo che vi leggo adesso è tratto sempre dal primo libro, ma dalla sezione finale del libro. E questa è di fatto una sorta di scusa che Lucrezio fa del suo operare, perché il fatto di scrivere un poema epico di carattere diciamo didascalico contravviene uno dei dogmi di Epicuro, cioè quello di evitare la poesia. L'odio da parte di Epicuro della poesia dipende dal fatto che per i greci Platone dovreste averlo forse iniziato, almeno questa parte, ma insomma nella Repubblica in particolare Platone se la prende con la poesia epica, perché la poesia è qualcosa che dovrebbe ammaestrarci è paedeutica nel mondo greco, ma spesso insegna cose sbagliate, rende ridicoli gli dèi, questo è il concetto platonico, e soprattutto seduce gli esseri umani con la sua bellezza, ma poi in realtà non gli fa vedere il vero. Quindi diciamo la filosofia successiva a Platone, che non scrive in poesia, chiaramente lo scrive in dialoghi, è tendenzialmente antipoetica, e questa è un'innovazione rispetto a determinati poemi didascalici filosofici del V e VI secolo. Questa cosa l'abbiamo già dette prima. Ora qui si scusa e spiega perché ha scelto la poesia, che è una scelta pratica più che una scelta di incontravvenzione al maestro. Considerate che è passato anche tanto tempo da Lucrezia e Piccure. Piccure è un uomo che vive dalla metà del IV secolo, quindi è più giovane di Platone, di circa due o tre generazioni. È nato nel 350, Platone è nato alla fine del V secolo, quindi 4 e 20, 4 e 30, mentre muore nel 270 Epicuro. Quindi siamo circa 200-250 anni prima. E il mondo epicureo era avanzato, quindi diciamo la rigidità epicurea nei confronti della poesia viene meno. Io vi ho parlato della scuola di Napoli e diciamo le persone che lavoravano a Napoli per esempio facevano anche poesia, trattavano di poesia, facevano trattati sulla poesia, quindi in realtà il dogma antipoetico di Epicuro viene un pochino meno. Leggo, 921. Ora apprendi, vedete che tipo di relazione ha Lucrezio con il suo pubblico, con il suo lettore, come se fosse diciamo una sorta di fanciullo studente. Ora apprendi ciò che resta e ascolta con maggiore chiarezza. Non sfugge al mio animo quanto la materia sia oscura, ma una grande speranza di gloria ha percosso il mio cuore con la punta del tirzo. Qui il tirzo è qualcosa di tipico di Dioniso. Lucrezio si presenta come se fosse invasato da Dioniso, ma soprattutto dalle muse, come un poeta antico, un poeta epico. E insieme, ma infuso nel petto, un suave amore delle muse. E ora, infiammato da esso, esattamente come un aedo omerico, cantami o deade di Achille, oppure vi ricordate sempre nell'Odissea, parlami dell'uomo del Montiferentio Invegno, Musa. E ora, infiammato da esso, da questa ispirazione divina, percorro con mente impetuosa gli impervi luoghi, cioè i difficili luoghi delle Pieridi, cioè quelli che sono il luogo delle Muse, le Pieridi. È un monte che sta nella parte centrale della Grecia. Mai prima d'ora segnati da piede mortale. Perché mai prima d'ora segnati da piede mortale? Perché nessuno ha mai usato in poesia, né in Grecia né a Roma, scrivere un poema di questo tipo. Cioè, in effetti nessuno ha mai scritto un poema epicureo e in versi. Minebria, come se fosse vino, raggiungere le fonti intatte e trarne i sorsi, chiaramente delle fonti della Pieria. Minebria, spiccare nuovi fiori e trarne al mio capo una splendida ghirlanda, cioè corona, di cui mai ad alcuno prima di me ombreggiarono le Tempie e le Muse. Cioè, si vanta qui di essere diventato un poeta, ma un poeta diverso da tutti quelli precedenti. Prima, perché di sommi argomenti ragione ma dopo a disticare gli animi dai nodi di vani e superstizioni. Per prima cosa perché, diciamo, parlo di cose molto difficili e faccio in modo di, diciamo, rendere semplici alla gente, agli animi, i nodi che sono, diciamo, legati fra loro da vani e superstizioni, dalla religio di cui parlava prima. Poi, in secondo luogo, perché su un'oscura materia, su una materia difficile, oscura, come quella filosofica, compongo versi così limpidi, e quindi chiari, aspergendo, quindi spruzzando ogni cosa della leggiadria del canto. E qui c'è la ragione fondamentale. Lucrezio sapeva che il tema era difficile e per sedurre la classe dirigente romana, in particolare, che era appassionata di poesia, e in particolare di poesia greca, diciamo, sparge, cosparge, asperge questa materia difficile, ma importante, con la bellezza della poesia. Infatti, anche ciò non sembra senza ragione. Come i medici, e questa è la cosa famosa, come i medici, quando cercano di somministrare i fanciulli l'amaro assenzio, cioè una malattia, un farmaco amaro, prima cospargono l'orlo della tazza di biondo e dolce miele. Ora, molti di voi, quando erano piccoli, la mamma e il papà gli avranno messo lo zucchero. Chiaramente lo zucchero non esisteva nel mondo antico, perché è una cosa di raffinazione moderna. I greci usavano, i romani usavano, per dolcificare le bevande e anche i dolci, eccetera, il miele. Affinché l'inconsapevole età dei fanciulli ne sia illusa fino alle labbra, cioè il ragazzino tocca con le labbra il mieve, è tutto contento, e frattanto beva l'amaro succo dell'assenzio senza che l'inganno le nuoccia. E anzi, al contrario, cioè, ma l'inganno non è, non nuoce al ragazzo, perché in realtà questa cosa gli fa bene, e anzi, al contrario, in tal modo rifiorisca e torni in salute. Il bambino sputerebbe la medicina, ma perché, diciamo, gli faccia bene e lo faccia salvare, dobbiamo illuderlo, illuderlo con la bellezza del canto. Così io, notate, diciamo, questa su enorme paragone che assomiglia molto ai paragoni omerici, l'abbiamo trovato spesso in Virgilio, poiché questa dottina appare spesso troppo ostica, cioè troppo difficile a quanti non l'abbiano conosciuta a fondo, e il volgo ne rifugge e la borre, cioè, l'ho rireso, è sinonimo di rifuggire, cioè, non lo disdegna. Ora, proprio per questa ragione ho voluto esporla a te, a te mio lettore, nel melodoso canto Pierio, cioè, delle Muse, e quasi aspergerla del dolce miele delle Muse, se per caso in tal modo io potessi trarre il tuo animo con questi versi, fin quando tu attinga l'intera natura dell'universo e di quale forma essa consista e si adorni. Perché, chiaramente, questo è il concetto. Poi dopo dice, ma poiché ho insegnato che le particelle elementari della materia solidissime volano in eterno senza che il trascorrere del tempo li distrugga, qui fa riferimento alla fisica epicurea che poi tratteremo in modo più presteso dopo, la fisica epicurea è essenzialmente una fisica atomista, cioè, il mondo è fatto di atomi, l'anima compresa e quindi sia l'anima che il nostro corpo alla fine della vita scompare, noi siamo mortali.